Alvis e Rigo e Tove Vilfordi ballando con le stelle stanno insieme. Da settimane si parla di questa relazione ma i diretti interessati non hanno mai confermato, ma neppure smentito, parlando di un rapporto importante, magico, che cresce tra una prova e l'altra del programma. I due, però, continuano a vedersi anche al di fuori degli studi televisivi, più volte Alvis e Rigo e Tove Vilfordi sono stati paparazzati come una coppia in altri contesti, ben lontani da ballando con le stelle. Ad esempio ad una partita di pallone ma pure ad una prima cinematografica. La conferma di questa liaison è arrivata da Alberto Matano, che ha spifferato durante la sesta puntata dello show che dietro le quinte i genitori di Alvis e hanno conosciuto Tove mentre la madre e il padre della Vilfordi hanno incontrato Rigo. Dunque, a poco più di un mese dall'inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle sono già arrivate le prime presentazioni in famiglia. Alvis e Rigo e Tove Vilfordi non hanno negato il pettegolezzo riportato da Alberto Matano ma l'ex ragbista si è limitata a chiamarli, piuttosto divertito, suoceri svedesi. Un'affermazione più che mai chiara che con Tove è amore. Un grande amore, travolgente e passionale.